GORMETI Ottimo lavoro, guardiani! Questo cannone è stato creato per i Solark, ma se riuscissimo a indirizzargli le nostre energie... Avete sentito, ragazzi? Furia dell'oceano! Artiglio distruttore! Sì! È fatta! Illusi! Niente può arrestare la potenza del caos! No! Non gli abbiamo fatto niente! Con quel frammento i suoi attacchi sono troppo potenti! Io potrei riuscire a togliergli quel frammento! Pessima idea, Trek! Già, è una vera follia! Questo non è nel tuo stile! Organizzare piani non fa per te, Trek! Solo un guardiano del cristallo può riuscire ad afferrare un frammento del cristallo! Stavolta tocca a me! Non c'è altra soluzione! Ah! Trek! Adesso non hai più scampo, Gormiano! Stai forse venendo a portarmi il tuo frammento? No! Sono venuto a prendere il tuo! Ha! L'ho preso! Io ci sono riuscito davvero! Ma bravo! E adesso che cosa pensi di poter fare, minuscolo Gormiano? Beh, non ci avevo pensato finora! Ragazzi! Ci pensiamo noi, Trek! C'è un po' grande!